Ciao a tutti pagliacce e pagliacce, qua il mio Gozzo e benvenuti su questo nuovo video a bomba sul mio canale Attenzione perché questo è uno dei pochi video che io ho messo sul canale che sono comici, che vale la pena guardare Quindi ragazzi anche se si tratta di Fortnite non chiudete il video perché vi posso assicurare che ci sarà seriamente da ridere E perché è veramente qualcosa di inaspettato, perché neanche io sapevo che avrei dovuto registrare questo video Infatti è una cosa fatta all'ultimo momento perché mi è capitata l'occasione che l'ho registrata Ci tengo anche a ribadire che questo video ragazzi non è assolutamente roba di bullismo Perché il bambino che ho incontrato penso che mi conosca anche, vede anche i miei video Quindi Mattia se stai guardando questo video, bella zi Niente roba di bullismo perché è una cosa veramente brutta Quindi non fatelo mai né a voi stessi né agli altri, non so se si può fare a voi stessi Vabbè insomma penso che avete capito il messaggio Quindi è un video troll, un video appunto divertente, non si tratta di bullismo Per cui guardatelo veramente fino alla fine perché c'è da ridere seriamente Quindi ancora ciao Mattia che è questo bambino che ha 7 anni ragazzi che ho conosciuto Casualmente eri su Forte e ti ho deciso di registrare questo video Tant'è che anche senza facecam perché stando giocando a un certo punto l'ho trovato ragazzi E ho deciso di fare questo video Quindi guardatevi il video, mi raccomando un bel mi piace ragazzi Perché ne arriveranno anche altre delle belle perché io non è stato solo questo che ho registrato Ma anche altre cose quindi un bel mi piace se volete un altro video simile Dove magari c'è, non ve lo voglio spoilerare Iscrivetevi al canale così non potete perdervi i prossimi video perché ho registrato più di un video Quindi mi raccomando che vi aspetto eh Che mi sentite eh? Mattia mi senti? Mattia mi senti? Sei pronto per una bella partita? Sì Dai dai fammi vedere quanto sei pronto Faccio vedere quanto sei pronto Cerchiamo di fare victory Dai Cerchiamo di fare victory eh Esatto Royal o Real? Royal Tu giochi a Clash Royale o a Fortnite Battle Royale? Fortnite Ti piace tanto E Clash non ti piace? E Clash Royale non ci gioco Infatto che non posso dire perché se no dopo mamma si ingazza e tutto e tutto Ciao Nab Ciao siamo tutti nel hub Andiamo a Pinnacoli Andiamo a Pinnacoli Andiamo a Pinnacoli Andiamo a Pinnacoli Però se tu ammazzi la gente lo sai che commette un crimine poi come fai? Non puoi ammazzare la gente su fortuna Sei cattivo Dai Non è vero il gioco non è per realtà Sì Dopo si suicidano e vabbò Eh ma tu sei un criminale oppure sei un mafioso me lo devi dire Nessun debito Sì vieni che ti proteggo No ragazzi dobbiamo andare a salvare Simo Non possiamo lasciarlo lì Ho visto un bel tizzetto E' vero Fagli il cappuccino Ti dobbiamo salvare Fagli il cappuccino Vedi vuole il cappuccino Entra Ok No secondi chiudiamo la porta Che bevo Devo bere Vai bevi bevi Non è vero Non è vero Poi fammi sapere se la pozione è buona Quella che ti bevi Quella la pozione succosa Sì Dammene un po' Io vengo la pistola a tamburo E allora mi serve Che pistola c'hai? A tamburo A tamburo A tamburo Cos'è vuoi un canguro? Non ho capito A tamburo ho detto Dove sta il canguro raga? Riesce a guardare O che sta a tamburo? A tamburo Vuoi un canguro? Non scherzare dai Dai Ragazzi Dai Arrivano Arrivo arrivo Bravo Bravo Ma è che Ma io non li ho E senti Mattia Tu conosci il ciccio gamer Sì ma Non è che la seguo Non ti piace? Diciamo Mi piace Come non mi piace Lasciatemi I colpi del pompa E famigli Lo segui? Diciamo Che se vuoi Poche persone Ed è capito Che ho detto Mi hanno tolto due di scelta E no come facciamo? Perché? Omega perché Vieni quel piccone? Perché? Perché è grande Mattia difendimi Sono un hub Ah Ah Dipendimi Qua ti do un panino Se mi dipendi Ti piace il panino? Sì Però non riesco ad uscire Dai Ti devo andare Non mancare la gente Le genti Dove siete? Le genti? Le genti Aiuto Mattia mi stanno uccidendo Come faccio Senza Di me Chi 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 Sono sul palazzo Io ho figliato qualcuno Chi Chi Salvatemi Chi 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 Io non posso Io devo ammazzare Un agente Un agente Ma l'agente 007 Vuoto qualcuno Vuoto qualcuno Raga Arrivo Sivo Lascia stare Il mio amico Hai capito? Il mio amico Non ti tocca Si spegno due secondi Mi spegno due secondi Raga Dopo di questa Devo spegnere due secondi Eh Si Micchi Micchi Attento Scappa Scappa Arrivata una granata Scappa Ti hanno preso? C'è gente Beh buba Raga c'è gente C'è gente Sono troppe genti Troppe genti? Eh lo so Però attento La granata Scappa Sei morto? Ti confisco Ti ho aiuto io Ti ho aiuto io No Ecco Chi c'è? Chi c'è? Mi state rinchiudendo Eh così non muori Cioè se ti richiudo Sai che non muori No ma sto a posto Sto a posto Eh ma io non voglio che muori Capito? Siccome non voglio che muori Allora ti chiudo Mi difendete? Eh certo Dove stanno le genti? Non lo so Voglio fare una kill Dove sono? Dove sono le genti? Madonna Allora Mattia non sto scherzando Vuoi fare il grigio Che ti ho detto io Però devi venire vicino A me lo devi fare Vieni vieni qua No 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 Fidati di me No no Non lo voglio fare Guarda che sono uno youtuber Ti puoi fidare di me No non lo voglio fare Ma di me ti puoi fidare Io lo faccio con me Che mi prendo la skin di Mickey Perché quella vuole mio fratello Non vuole Regiro Un gioco solare Com'è che si chiama? Tu Mickey Non vuole quel po' No la skin dell'ultima La skin Eh come si chiama? La chiamo Regiro Regiro Io la chiamo Regiro E che è un pokemon No Sì Sì È un pokemon Perché io sono un apprezzionato di pokemon Catch him on Viva il pokemon Non insultare mi posso No no Scusa scusa Raga ciao Raga venite che vengo un trampolino Vero? Ok tu fai un trampolino Aspetta che mi tuffo Sì Non so Raga Volete usare il trampolino? Sì vai mettilo 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 Ma perché? È un bug È un bug Capito vado a piedi Non ci sto capendo niente Eh lo so manco io No Non abbiamo fatto mica molto Eh perché devi fare la scala più alta La safe mi prende e mi ammazza E mo lo diciamo alla maestra che la safe ti ha ammazzato Penso di sia Secondo me dovremmo dirglielo Mattia la safe mi ha preso Adesso lo diciamo al regirock Il pokemon Io sono abituata a dire il pokemon Scusa Eh lo diciamo al regirock Così viene a salvarci lui E io chiamalo Quanti sono? Quanti? No Mattia aiuto Aiuto Mattia Non mi hai salvato Non mi hai salvato E chissà dove sei Io ancora devo rientrare in safe Sei cattivo però Io devo rientrare in safe Tengo anche nuova vita Non posso No io di safe Salve ciscine Come facciamo? No Te lo diciamo alla maestra Bravo io diciamo alla maestra La maestra è stata cattiva eh Non si fa così Raga 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 Venitemi a salvare raga Che forse riesco A sopravvivere Nooo Non abbiamo fatto la vittoria royale E adesso lo diciamo alla maestra Luiz Mattia lo diciamo alla maestra No No Raga Eh dici 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 tutto Devi andare No ci rivediamo Devi andare a fare merenda Dopo ci rivediamo eh Eh ma devi andare a fare merenda No Ok Allora io ti aggiungo agli amici Va bene Così poi giochiamo ancora Va bene Va bene Va bene Dai Ci vediamo Ciao Ciao A dopo Ciao 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 Grazie a tutti